Undici anni fa si fingeva un agente del mondo dello spettacolo in cerca di starletta a caccia di fame e successo. Oggi invece celava la sua identità dietro il mondo virtuale e adescava giovani donne, possibilmente del nord Italia, promettendo loro che avrebbero lavorato come hostess e accompagnatrici. Raccomandava ovviamente la massima discrezione, ma una volta che le vittime arrivavano nella capitale, la rete del maniaco diventava più fitta e pericolosa. Il 61enne romano, ora arrestato dai carabinieri infatti, le drogava col benzo di azepene, a volte le violentava, spesso le derubava di gioielli con tanti orologi. Anche stavolta però il falso agente che infrangeva sogni e soprattutto anime e corpi è finito in manette, pensate ad incastrarlo come nel primo caso una donna. Allora fu un attenente dell'arma dei carabinieri, stavolta una militare della compagnia Roma Prati. Dieci le vittime accertate fino a questo momento, ma non ha escluso che tante siano cadute nell'inganno, allertate dalla possibilità di trovare lavoro e lauti guadagni. L'uomo adescava così ragazze e donne, quasi sempre di un'età compresa tra i 25 e i 50 anni, cercasi hostess accompagnatrici, appuntamento in hotel di Roma, arrivare munite di un'ottima bottiglia di spumante, prego, anticipare anche contante, per eventuali extra non previsti e mai dimenticare l'olio da massaggio. A quel punto il maniaco si trasformava da procacciatore di clienti a fruitore del servizio. Nelle camere degli alberghi dove incontrava le vittime scattava il solito modus superandi, nella bottiglia di spumante scioglieva il benzo di azepene, le donne perdevano i sensi e quando si svegliavano scoprivano l'abuso o la rapina. Alla fine due persone hanno denunciato i carabinieri dopo aver scovato un annuncio simile a quello descritto, hanno deciso di far scattare la fase esecutiva delle indagini e stavolta, quando il 61enne è estratto dalla tasca due pastiglie di Tavor ha trovato le forze dell'ordine, pronte ad intervenire. Ora è accusato di rapina aggravata, violenza sessuale, cessione di sostanze stupefacenti psicotrope, fotocopie di documenti, videocamere, macchine fotografiche e materiale utile alle sue perverse messe in scena sono state sequestrate dai militari, che proseguiranno le indagini temendo che tante altre donne siano cadute nella trappola. Per questo motivo è a disposizione un numero di telefono per eventuali denunce o segnalazioni 06 36 08 4000.